Marcheschi, lei come Fratelli Italia e anche come candidato sindaco di Firenze non è contrario alla tramvia o alle sue estensioni, però avete delle proposte differenti per quanto riguarda le nuove linee, quelle che andranno verso Bagno a Ripoli. Sì, siamo molto preoccupati delle ripercussioni che le nuove linee avranno non solo sul traffico ma anche sulla cittadinanza. Abbiamo sopportato tanti anni di cantieri, le aziende sono chiuse, ci sono dei quartieri con veri e proprie desertificazioni, non ci sono più alberi, quindi hanno cambiato aspetto e soprattutto la vivibilità del quartiere stesso. Quindi io da domani sarò nei quartieri dove dovrà passare la nuova linea della tramvia, quindi Campo di Marte, Rovezzano, Gavinana e Via d'Europa, per dire ai cittadini quanto non è stato detto nelle assemblee pubbliche, sono poco frequentate e spesso quello che dicono i cittadini non vengono ascoltati. Qui ci sono già dei progetti e Fratelli Italia vuole cercare di modificarli perché sono progetti molto invasivi, come sono stati quelli fino ad ora, con pali, taglio di alberi, chiusura di negozi, pensate che si continua a insistere per far passare i binari nelle uniche strade importanti che è a Firenze, Viale Giannotto e Viale Europa. Abbiamo solo una cerchia di viali con otto corsie e anche quelle cerchie di viali, Viale Lavagnini, Piazza della Libertà, Viale Matteotti, Viale Gramsci, dovrebbero, secondo sia la Giunta regionale sia il Comune, dovrebbero essere attraversate a binari. Ecco, noi chiediamo che vengano rivisti questi progetti, ci sono possibilità alternative, possiamo prenderci qualche mese di tempo per studiarne migliori, del resto non mi pare che ci sia problemi di costi, se questa linea qui si pagasse 100 milioni di euro, se quella prossima si pagasse 610 o 615, per avere un progetto meno impattante forse si starebbe tutti meglio. I quartieri sarebbero meno deserti, io presento un sito dove si vede le foto dei quartieri, come ad esempio la strada di Viello Statuto, che è clamorosa perché è diventato un deserto, ma anche sui rendering di quelle che saranno Viale De Mille e Viale Giannotti, lo faremo con un volantinaggio e con un sito di io difendo il mio quartiere.it, da domani saremo appunto nel quartiere a spiegare quello che è il progetto scelerato che queste amministrazioni stanno cercando di mettere.